Non è una questione di leggi ma di inattività e incapacità politica e amministrativa. In vent'anni sono stati spesi e mal gestiti ben 5 milioni di euro. È il pensiero dei grillini Adaro Micioli e Rossella Coto, che dopo un lavoro di approfondimento, durato diverse settimane insieme ai colleghi del Movimento, questa mattina hanno presentato soluzioni per risolvere l'emergenza del dragaggio del porto di Fano e anche le conseguenti attività bloccate come quelle della pesca, della cantieristica e del turismo. Non è stata una questione di soldi perché i soldi sono stati spesi purtroppo male. Non è una questione neanche di leggi perché la paventata attività delle Emilia Romagna rispetto alla Regione Marche non è assolutamente sotto questi termini. La Regione Marche e la Regione Emilia Romagna devono rispettare le stesse leggi. E invece in realtà una capacità che è venuta a mancare da parte della politica e dell'amministrazione sia comunale che regionale nell'affrontare queste problematiche. I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle hanno presentato un'interpellanza per avere risposte in merito dal Sindaco Seri e dalla Giunta, un documento che nel tardo pomeriggio è stato poi mostrato e condiviso anche con gli operatori del porto. Abbiamo recepito anche delle loro osservazioni, quindi è stato un buon incontro e penso che si siano resi conto che veramente quando c'è la volontà di lavorare, di portare soluzioni anche per il porto di Fano, queste si possono realizzare. Come ha spiegato poi la candidata fanese alle regionali, è necessario intervenire in due modi e in due momenti differenti per risolvere il problema? Occorre intervenire inizialmente, quindi in fase di emergenza, intervenire direttamente sui sedimenti. Abbiamo visto che dalle analisi dell'ARPAM effettuate nel 2009, i sedimenti individuati nel nostro porto sono sedimenti classificati in A1, A2 e B. Quelli in A1 abbiamo detto che sono circa 10.000 metri cubi e possono essere utilizzati come ripascimento delle spiagge, mentre quelli in A2 possono essere immessi in mare attraverso delle aree destinate a immersione. Per quanto riguarda invece quello B, sono quei sedimenti che devono andare in cassa di colmata, ma la cassa di colmata di Ancona non ha la capacità, la capienza necessaria per recepirli tutti. Quindi noi proponiamo anche un'analisi, di progettare un'attività di recupero di questi sedimenti come è avvenuto nei porti di Ravenna. In un secondo momento poi bisogna rebaggire in attività più tecniche, come ad esempio rivedere il piano regolatore generale del porto, prevedendo una cassa di colmata. Propongono inoltre al comune di sottoscrivere un accordo con Enel per gestire i fanghi che provengono dal canale Albani. Oltre a questo anche la capitaneria potrebbe intervenire attraverso un'ordinanza di estrema urgenza. In questo modo ci sarebbe la possibilità di trasportare nell'area destinata ad immersione in Ancona, che prevede una capienza di circa 333.000 metri cubi, i sedimenti classificati in A1 e A2 che non possono essere utilizzati. Non ci sono problemi di soldi, non ci sono problemi di legge, è soltanto mancanza di capacità politica a intervenire.